Siamo qui a Cleto per Fotocunti, abbiamo qui Riccardo Cristiano. Che cosa ne pensi tu da videomaker per Fotocunti? L'esperienza di videomaker qui a Fotocunti ovviamente non può che essere positiva perché riprendere il borgo in tutta la sua bellezza con questi fotografi che hanno documentato attimo per attimo quello che è arte nel borgo è sicuramente ciò che è poi l'esperienza in se stessa. Quindi secondo me sarà sicuramente propizio per il Cleto Festival dove vedremo le foto che avete scelto, che hanno selezionato e che saranno sicuramente bellissime e saranno considerate arte proprio dalle persone che le osserveranno. Quindi il borgo cos'è se non il risveglio stesso dell'arte all'interno del borgo? Quindi Liberi TV Riccardo Cristiano, Cleto. Grazie a tutti per aver guardato il video.